Una battuta d'arresto che però lascia variata la classifica, però magari come squadra sono pienso di poco oggi. Abbiamo fatto una grandissima molle di gioco, purtroppo in questo periodo qua non riusciamo a buttare dentro. Ci sta mancando tantissimo il fare gol, abbiamo avuto almeno cinque occasioni importanti già ancora sullo 0-0, poi alla prima occasione degli avversari purtroppo abbiamo subito il gol, abbiamo un paio di svarioni nostri difensivi, due gol praticamente regalati, poi la partita è difficile rimetterla in piedi, poi chiaramente abbiamo cercato di sbilanciarci, poi abbiamo avuto il loro quarto gol sull'azione di contropiede, quello ci può anche stare. Dobbiamo lavorare, dobbiamo compattarci ed essere più cimici sotto porta, secondo me solo quello ci manca in questo momento. Forse anche sulle seconde palle eravate poco incisivi, cosa ne pensi? Ma le seconde palle sono meno che ci siano neanche state tanto, nel senso perché poi alla fine loro ripartivano molto veloci, non tanto sulla palla recuperata in mezzo al campo ma più nell'azione nostra in cui eravamo propositivi, loro erano molto bravi nel ripartire, però ripeto, se noi la prima occasione che abbiamo senza portiere davanti facciamo gol, la partita poi prende una piega diversa, gli episodi sono fondamentali nel calcio per l'analisi della partita e se ne facciamo una di quelle tre o quattro occasioni che abbiamo avuto probabilmente andiamo in vantaggio a prendere una piega diversa, non l'abbiamo fatto, noi siamo stati bravi a prendere gol quando dobbiamo fare e poi si è aperto la strada per il contropiede. Grazie, mister.